La crisi finanziaria in Turchia fossa nuovamente le borse europee, in rosso fin dai primi scambi sulle preoccupazioni per il nuovo tonfo della lira turca e nonostante le rassicurazioni della banca centrale e del paese. Al termine delle contrattazioni tutti gli indici europei sono in calo, con Milano in flessione dello 0,58% anche per effetto dello spread BTP Bund, salito oltre quota 280 punti. A soffrire sull'indice principale di Piazza Affari sono in particolare le banche, con Unicredit e Banco BPM in flessione di oltre due punti percentuali. Male anche Leonardo FCA, ben comprate invece con rialzi sopra i due punti, Moncler, Azimut e Unipol.